Salvatore Vivo 40 anni, quindi mi ha scritto male, si è tolto 10, 30 anni di video alla conclusione di ogni settembrata, quest'anno con il centenario appunto. Il maestro Vivo ha collaborato per tanti anni con la settembrata, dal 1977 con la fotografia e dal 1994 con il video, che con il rammarico del maestro oggi vede qui in questa sala la sua ultima proiezione pubblica. Qua ci vuole, no, va, ci dispiace, ma tuttavia Salvatore si riserva la continuazione nel fotografare e filmare i momenti più importanti e salienti della manifestazione, le quali potranno essere visualizzate nelle pagine web, facebook, instagram, youtube, Vivo Salvatore e Capri Digital Video. Salvatore ha rietato e ha fatto rivivere momenti importanti ed emozionanti. I suoi filmati rimarranno archivio storico della manifestazione. Quindi Salvatore Vivo vuole, questa è la lettera che mi ha parlato lui, vuole ringraziare le amministrazioni che si sono susseguite, i sindaci, gli assessori al turismo, tutti i cittadini, come voi, come quelli del passato e come quelli che verranno, che come protagonisti hanno collaborato alla realizzazione di tutto ciò. Quindi un grande applauso a Salvatore Vivo. Grazie. Un grande applauso perché in questo momento, con grande emozione, noi faremo partire l'ultimo video che verrà proiettato qui. Ma vedremo tanto altro ancora nei prossimi anni da Salvatore Vivo, nei portali che vi ho detto, e quindi lui resterà a disposizione per la comunità che ama tanto e che di certo, insomma, va a riuscire in tempo di lui. Salvatore Vivo è il video del centenario. Grazie. Grazie. Quanti personaggi, eh? Salvevola qua? Ciao, vai che sei giù, eh? Ciao, ciao. Salvatore Vivo. Per noi che sei giusto, Salvatore, eh? In selezione maschile, possiamo fare entrare la Salvatore Virginia Amabile in questo momento. Io credo che sia doveroso, ma non ringrazio a me. Bimbi? Niente coppia. Niente coppia. Per te, per i tuoi 40 anni di attività, ti leggo la... A Salvatore Vivo, un sincero ringraziamento per i suoi 40 anni di meticolosa ed appassionata salvaguardia della memoria di Anacapri. Con le sue foto e i suoi video, ci ha fatto rivivere i momenti più belli della settembrata Anacaprize e non solo. Ci siamo riconoscenti. Bravo! Aspetta, Salvatore, che va male. Stappa, stappa. Salvatore ha sento shock. Allora, io prima già ho aggiunto, eh, per molte cose che non voglio, non voglio, diciamo, dilungare, perché la serata è lunghissima. Adesso che Salvatore è un uomo, magari che inizia a leggere poche parole, ma ha tante emozioni. È un uomo con poche parole, ma con un cuore enorme. Io ve lo ringrazio. Grazie. 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 Grazie.